Ragazzi, oggi giocheremo a Fuxer Racer Allora, siamo sempre qui Allora, mettiamo Fuxer Racer Probantrek, mi piace questo circuito Metto 3G, perché le facciamo diverse, diga, eh? Molte diverse Continua, vai Aspetta, davvero semplice Via! Oh, mi sta un po' gavagando No, niente EW, EW Non mi buttare qua Non è valido Devo un attimo finire, perché Stavo un attimo vagando Oh no, si vaga, si vaga Vabbè Eh, ciao Ma dai! Ma che cattiva Non si fa... oh Mandate che lei Allora Adesso vediamo che amico Ciao a noi E io Faci Ciao 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 Infatti l'ultima curva è Per ultima curva è Qua Vabbè nono Ok Ah C'è sempre questa riuscita Ok Allora Facciamone un'altra Stavolta Voglio vincere Questa è più bello Strategia soft Lo dovresti capire Tre giri No Facciamo una cosa estrema Super soft No soft Dai Sarebbe anche troppo Però Se lasciate like La facciamo anche dopo Ok La facciamo anche dopo 3 2 1 1 Via Dove partire da 5 Dai Dai Non è valido Fai così Non si pingano Vai Ho fatto la scorciatoia E' valido in questo gioco Ho fatto la scorciatoia Eh ma Oh no Ho fatto la scorciatoia Infatti Sono la settima Dai 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 Oh my god Ho fatto la scorciatoia Mitica Però adesso Però è molto più veloce A portare salto Ce l'ho fatta Dai 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 Bell'incidente Oh my god Oh my god È bellissimo Quello è sì Capovolto Quello è sì Capovolto Quello è sì anche capovolto Wow Wow Ops Scoppa mia Andiamo No Allora Adesso adesso non è male Ho Adesso 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 Sono tutti Già Alla fine Mi sono venuto Mi sono venuto Di un giro Questo è anche Perché Secondo me Alla fine Oh Lo vedo Secondo me No Lo vedo Eccolo Però è molto Molto Lontano Dai Veloce Veloce Facendo che sistema Ce l'ho fatta Lo voglio prendere Ecco Ho appena girato Oh my god Ho fatto una cosa estrema Infatti Sono Appena Scivolato Faccio un'altra cosa estrema La stessa cosa E vai Ti prego dimmi che Era quello No No Era quello davanti Quindi Ragazzi Tutti pronti E' arrivato Il mio papà Ultimo giro Ragazzi Uh Questo video Sarà epico Secondo me Ok Dai Vai Sfida l'ultimo sangue Vai Vai E non c'è la bacia C'è che non è Sono ancora ultimo E sono ancora quinto Quinto E sono ancora quinto Quinto di superturo Non me ne ho capito Forse è quello di primo soltanto che Ha detto di essere quinto soltanto Primo Svegli Vi Come C'è Vi 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 non 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 a che cosa non 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 una non 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 Facciamo lo stesso. Restart Italia. Il gran premio d'Italia. Devo decidere se metterà. Ok. Ok, ho deciso. Metto le... Medio. 2G. Ok. Passo il tempo. E vai. Tamponato. E vai. Siamo più veloci di tutti. Oh my God. Non è valido tanto no. Guarda che lo faccio. Guarda che lo faccio. Ce la faccio. Ce la faccio. A sconto epico. Qua. Qua. Non ce la fa. Andè non ce la fa. Cerca. Il suo passo. Ma non ce la fa. Cerca il suo passo. Lo cerca. Oh. Problemi di motore. O no. Ah. Ah. Primo. Credo. Terza posizione. Seconda. Il primo è ancora là. Dobbiamo prenderlo. Il primo è ancora là. Faccio una cosa mitica, la giacattina, devo parlare con la cosa mitica, eccolo, bing 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 bing, ce l'ho fatta, lo vedete? Io lo vedo, ditemi se lo vedete. Oh, sono bravo, sono molto più bravo. Due, tre, ultimo giro. Devo soppassarlo da ogni costo per arrivare prima. Qualunque è stata una battaglia epica e bellissima. Eccolo, eccolo! Oh no, no! Andavo così tanto veloce che mi sono preso un po' il petto, quindi dovevo per forza fermare. Dai, al super soft, ma io voglio lasciare prima. Io voglio vincere per la vita io, oh, al super soft, niente. Ma io uso la scocciatoia e ce la faccio! Secondo me lui si è spaventato, quindi è andato a parte. No. Proprio nel momento giusto. E ho vinto, basta anche per noi adesso. E poi l'ho andato sul pistopè. Non è neanche un grosso passato. Non è neanche un grosso passato, non è neanche un grosso passato, non è neanche un grosso passato. Ok. 3, 2, 1, via! Ho vabbè, l'attornito. Dai, dai! Dai, dai! Dai! Oh, ma non si fa perché in verità. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Tutti stai... Oh my God! Non so neanche un grosso passato, non ci credo! Però grazie per il tamponamento, mi hai fatto un po' soppassare della gente. Vai la gente! Due per... due auto. Grazie. Ti ringrazio. Quindi aspetta un attimo. Però non devi soppassarmi perché ho problemi. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Vai! Oh my God! Oh my God! Oh no! Ho un'idea perché non andiamo a rigottare. È che è più divertente. È stato divertentissimo. Ok, anche con la mia, mi soppassare la cosa. Vai! Ok. Mettiamo... Bene! Non mi ricordo più bene. Mettiamo tre lapsi. Ok! Quanto è questo fatto? Uno, due, tre, quattro, cinque. Via! È un modo per essere prima. Credo di fare così. Sì, sì, è questo il modo. Però il problema è che dopo non riesco più. Ah! Ha fatto una cavolata, mi sa. Dei, però, mettiti avanti. Sì, ha fatto proprio una cavolata. Oh! Oh! Oh my God! Oh my God! Cos'è stato? Cioè, bel tamponamento. È stato un super tamponamento. Wow! Però è un po' divertente. Adesso la verità. Lo spacciatore ha funzionato. Ok. Vai, 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 vai. Ok. Di bene così, così, così. Perché ci sono le microbe. Li tagli più bella, però. Dai! Daaa! No! Ok. Ritorniamo in piste. E vai! Oh, adesso inizia a piovere. Oh no. Nooo. Non ci credo. Inizia a piovere proprio più adesso. Nooo. Sì. Oh no. Bisogna andare a fare il piste stop. L'intermedie. L'intermedie. No, anche le wets. Dai. Vai! Ci stanno facendo il piste stop. Io no. Ma proprio in questo momento. Ok, ce la faccio. Ce la faccio wets. Piste stop. Va bene. Andiamo. Ce n'è uno là? Due là. Vai! Oh! Volevo fare la scocciatore ma in verità non ha servito a niente. Vabbè. Sono ancora sesto. Vabbè. Dai. Ma perché proprio voglio superarli proprio nel momento della curva? Dai. Ecco qua. Almeno questa parte. Poteva fare. Oh! Oh! Sta andando bene. Oh, ecco. Li vedo. Ma proprio vedo le scritte. No. Le ho viste sulla malapena. Ma dai. Vabbè, adesso. Adesso lo sparisce. Però io sono più veloce. Non perché le gomme più veloce. Anzi, quelle sono più veloce. No. Non lo so. Forse è il mio. Boh. Forse è il mio. Oh! Non si fa. Se vedi che c'è io. Fammi veloce. Non lo so passare. Adesso è una penalità. Infatti, grazie. Grazie. Oh! Ah! Adesso vediamo che è il migliore. tra noi due. Testa, testa. Testa, testa. Testa, testa. Io. Oh my god. Cosa ho fatto? Lo vedo? Addirittura? Oh my god. Si vede solo mezza sagoma. Ultimo giro. Ecco. Ultimo giro. Ci mancava questa. Che andò nei massimi livelli. Ci mancava questa. Dai, ti prego. Dai! Facci vedere chi sei. Veramente. Oh, quello si chiama. Cosa? Le gomme. Sembra che ha le gomme soft. Soltanto come... Non le puoi agire, quindi no. Oh my god. Oh no! 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 Cosa? Cosa? No! E' la cosa che è? No! No! Mi godo l'ultimo momento. Se ne hai un'altra. No! Vabbè. 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 Mi arrivo un'altra. Ciao, Fernando. Ci mancava questa. Ci mancava questa. vabbè. Vabbè, facciamo l'ultima. Questa. Fa un... Una pizza davvero strana. Fungria. Non l'ho mai vista. Eh, sì. Puoi? Mettere soft. Ah, vi avevo promesso che mettevo lo super soft, giusto? Va bene. Non vedo l'ora di cambiare il zoom. Cambio il zoom. Secondo me questa è un po' troppo, secondo me. Sì. Oh my god. Oh my god. Secondo me vado troppo veloce. E nel senso non buono. Cattivo perché... Nel senso che... Vado troppo veloce. Dopo mi schianto facilmente. Però vado troppo veloce. Veloce di così. Infatti te l'avevo detto che vado troppo veloce. Non si fa. Oh, adesso ti superi, vai. Non sai che vado più veloce di te, vero? Eh? Non sai che vado più veloce. Eh, con le mani do subito. Eh, grazie. Oh. Proprio non voglio accettare la sconfitta. Grazie per il suo passo. Ma guarda quello. Sono lì tutti. Sono tutti lì. Mi ha fatto perdere un bel po' di sicurezza. Grazie. Oh, ti prego, dimmi un po' di sicurezza. Decimo! Sono decimo! E vai! Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, Robert. la mia dai dai tu tocchi Oh my god, lo stavo per tamponare, fortuna per te, ecco, vedi anche andare troppo piano, cosa succede, eh? Anche tu hai visto passato? Anche tu hai? Andiamo ai massimi livelli, dai che ce la fai macchina, dai, quelli sono, quelli super soft, e quelli non li hanno, devi agire, devi agire, oh, ah, significa che farò tutto da solo, modalità facile attivata, oh, però anche questo no, eh, oh, ti sposti almeno, guarda, sì, eh, però, mi fai, mi hai fatto perdere tutto, adesso, no, sono ancora nono, sono ancora nono, non questo, Oh, ottavo, ho rimontato su tutti, e vai! Ciao! Non l'ho neanche superato, perché appena mi sape superare, beh, io ho avuto, eh, intendo, ovvio, ottavo, ok ragazzi, questo video finisce qui, iscrivetevi e mettete like, ciao! Lo dite tutto? Vabbè, ciao! Ciao!